Poi abbiamo la numero 14 del calcato di Jessica, nona, magari pure qualcuno qui, poi abbiamo, scusate devo stare molto a terra con la prossima, come Lisa, numero 26, è una cosa proprio di loro. Poi abbiamo la numero 55, Enrico Bianca, Ungheria, nona, e la numero 56, Alessandro Angelo, sempre nona, Poi abbiamo Ferreira Nicolle, la numero 60. Allora, lontana classificata, 8th place, abbiamo la numero 41, Fortimani, Scinza e Agnes, Ungheria. Poi abbiamo la settima, la numero 239, Fortimani, Ungheria, settima, 7th place, 7th place. No, ma quelle 15, mi dispiace, sono tantissime, certo, ognuno di loro, pensare che una nonna classificata, una ragazza con quella preparazione, con quel fisico, sia nonna, ci stupisce, però questo fa capire quanto sia di grande favore questa ragazza con quella. Allora, adesso, voi siete le finaliste, le serie, la sesta classificata è la numero 10, Asili Manica. Sesta classificata, quinta e la numero 31, quinta è la numero 34, una macchina, molto bella, slovata, e slovata. Quara ciò che ha, che fa buono, a me con un' vemza di tutti gli musnicioli, cioè nonna, ci sono prematetti. Rispettiamo anche gli underplay, non soltanto i nostri, poi quarta, ventidue, mariamo l'inizia. Terza, Palogo, Malenca, Slovacchia, terza, third place, seconda, ecco qui sono rimaste le semplici, italiane poi, certo l'avete abbattute, si può essere soddisfatti, c'è solo per questi. Allora salite sul primo gradino, vediamo chi sale e scende, qui c'è una militare, sul primo posto sono tutti i giudici, mi metto avanti, non so, qui c'è un primo, un secondo, vediamo da Palermo, non so, 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 non so. Cos'è? La seconda classificata è la numero 27, Bacchia, 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 Bacchia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.